Salve a tutti, oggi vediamo come si gestiscono le classi. Alle classi si accede in due modi. Dalla home page a sinistra c'è l'elenco delle classi, basta cliccare sulla classe. Altrimenti in tutte le altre pagine si accede alle classi da questo pulsante che è sempre visibile. Apriamo la classe a sinistra e vediamo cosa succede. Innanzitutto vediamo che il codice è attivo. Se io clicco sul codice si apre questa finestra dove mi è possibile cambiare il codice o bloccarlo semplicemente cliccando su questa freccetta. Posso anche scaricare le istruzioni da consegnare manualmente a qualcuno per far vedere loro come ci si scrive oppure si può copiare il link cliccando su questa voce. Si può anche inviare il link di accesso alla pagina scrivendo via e modo un messaggio. Basta scrivere l'indirizzo email della persona desiderata in questo campo e poi naturalmente cliccare send, cioè invia. Come gestire le impostazioni della classe? Basta andare sui tre puntini che si trovano qua. Come vedete qui troviamo l'URL di iscrizione. Ricordo che la differenza tra l'utilizzo del codice e l'utilizzo dell'URL è che l'URL permette che voi possiate moderare la richiesta di iscrizione, cioè dovrete approvarla. Mentre invece se mandate un codice la persona che riceve il codice inserendo il codice si scrive direttamente senza moderazione. Vi consiglio assolutamente di spuntare questa casella in modo da ricevere tutte le notifiche che riguardano l'attività che avviene nella vostra classe. Qui potete fare altre cose, c'è scritto cosa si può fare, impostazioni avanzate molto interessante. Se clicchiamo si apre questa finestra. Qui potete cambiare il nome della classe, cambiare la classe, il soggetto, la materia, tutto quello che volete. Naturalmente le classi si rivolgono agli studenti di norma, altrimenti è meglio usare i gruppi. Tra l'altro se voi cliccate qua la classe si trasforma in un gruppo, quindi vi consiglio di non farlo. Inoltre c'è una voce che è molto importante, che è questa. A seconda dell'ordine della scuola in cui voi insegnate, riterrete più importante nascondere o non nascondere i messaggi della classe ai genitori. Chiaramente se voi siete in una classe elementare, in una scuola primaria, potrebbe essere una scelta didattica consigliata mostrare ai genitori come avviene il lavoro didattico all'interno della classe, affinché da casa possono attivamente supportare sia voi che i vostri studenti. Quindi in questo caso io lascerei libera, non metterei alcuna spunta in questa scelta, selezione qua. Io lavoro alle scuole superiori e preferisco mettere una spunta e utilizzare le comunicazioni con i genitori solamente in caso di, come si chiama, solamente in caso di avvisi importanti. Se volete moderare tutti i messaggi e le risposte di una classe, cosa che può essere possibile nel caso di classi particolarmente vivaci, spuntate questo. Questa è la finestra che vi permette anche di cancellare una classe tramite il comando delete, che vuol dire elimina, cancella. Naturalmente io sconsiglio di cancellare una classe perché non è più possibile poi recuperarla in futuro. È molto molto meglio archiviare una classe. Una classe archiviata non è più raggiungibile dai vostri studenti, voi però potete conservare traccia delle vostre attività didattiche e di tutti gli allegati, cosa che può essere strategico nel corso degli anni successivi. Come a me è successo diverse volte, di ripristinare una classe per trovare una particolare attività o una particolare risorsa. Quando avete modificato le vostre impostazioni non dimenticatevi di salvare. Allora, dalle tue classi qua potete passare tranquillamente da una classe all'altra oppure tornate a cliccare su questo pulsante dove trovate una pagina che ha l'elenco di tutte le vostre classi. Questo è molto interessante perché intanto cosa potete fare? A parte che potete passare molto agevolmente da una classe all'altra. Io ho molte classi, ma tutti abbiamo più di una classe e quindi questa pagina è particolarmente strategica e può essere ed è accessibile da qualsiasi punto di Edmodo perché il pulsante resta sempre qua. I tre punti vi permettono di copiare o archiviare una classe. Non so perché non si vede, ma vi farò vedere magari. Eccolo, è comparso. Copia classe o archivi a classe. E inoltre qua potete vedere tutti i lavori in scadenza. Cliccando sui tre punti si possono vedere le classi archiviate, quindi eventualmente ripristinarle. Qui non ne ho, quindi non ve le mostro. Oppure si possono riordinare le classi. Anche questo è molto strategico perché si può decidere, ad esempio, di mettere le classi più utilizzate, cioè le classi digitali, sopra. E le classi create come progetti o le classi in cui si è, diciamo così, insegnanti, ospiti perché si fa con presenza o per varie motivazioni, metterle magari sotto perché si usano meno. Se si riordinano le classi si possono spostare mettendo il cursore su questi sei puntini e poi, come vedete, si possono spostare nella posizione che si vuole. Quando avete finito di riordinare, cliccate su fatto. Benissimo, penso di aver detto le cose... Ah no, un'ultima cosa che voglio mostrarvi. Sono tornata nella home page. Qua a sinistra, se voi cliccate sui tre puntini, potete creare una classe o iscrivervi a una classe molto velocemente, senza passare necessariamente attraverso l'apertura o attraverso questa pagina qua. Spero di aver detto tutto. Se ci sono altre domande, scrivetemi nei commenti. Grazie per l'attenzione e alla prossima.